Conoscete questa manifestazione? Abbiamo fatto 30 anni fa... Assolutamente sì! Bocca al lupo! Siamo pronti? Anche per mezzo di Camonti Ci sono 104 anni Per mezzo di Camonti Dice che io ho un'attività Margiela Allora, ieri com'è andata? Ieri? No, siamo stati pronti Questo che ho fatto Conoscete già le prove? Sì, ma i provi sono usato Queste forze che stavano Andiamo via così Andiamo via via Non è segreto Per arrivare l'anno A quel traguardo A potere sempre Ma quindi la costanza Non è più che la ferocina Non è più che sta La prima squadra che fai Scusate Bene, è ora per la partenza Scusate 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 Allora Marco, ieri avete provato? Sì, ho provato Com'è? E' una cosa che mi appartiene Insomma Scusate Scusate Quindi la prima serie In poche non può Marco Cianti E' pronto che lui è partita E io Filmercati Roberto Dornaghi Eccoli qua Sì Praticamente dal secolo scorso Non lo capisco Praticamente dal secolo scorso Praticamente sì Scusate La riusciti come è data Bene Se uomini Per nascondersi O'veros e Leona Ok Ci vediamo stasera sul podio allora Speriamo Tocca al lupo Bene Prodi anche loro A partire alla grande O'veros e Leona Il numero 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 Arriva lui E ci siamo ritirati Speriamo di rifarci quest'anno Quindi l'obiettivo è arrivare fino in po' Esatto In bocca al lupo allora Adesso vediamo se sono In bocca al lupo E' una parte con tre ruote In bocca al lupo Ciao Un bocca al lupo Un bocca al lupo Ecco qui Alessandra Sei il secondo Il terzo equipaggio femminile No? Alessandra è d'accordo No No A bocca si Da prima L'ha già fatto l'anno scorso Come ti è sembrato? Benedetti Aaaaaah Rachele A un passaggio Non sarei facile Di prendere Ieri com'è andata? No Partirete Il treno E partirete Facendo il treno E le salite E qui c'è la mini numero 124 Due volte Qui avete inizio Quindi chi dovete ripetere? Cerchiamo Quale è la differenza che troverai? Ah Non lo so Ma io 25 Giampiero Rocchi insieme a Carca Salvi Questa via Monza veloce Così dentro il tempo della velocità Assolutamente sicura Quindi possiamo usare Possiamo divertirsi Questa è il Salvi Rocchi e Salvi stanno off Per Corollo Andrea anche per te questa Mini Come è andata ieri? L'avete provato? Come andò? Va bene 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 Sono super Ci vediamo stasera Magari sul pod Salvi anche loro A testare questa Mini Con il numero Petissi Anche voi in fase di test Tutte le Mini che sono passate fino adesso A partire anche loro Per questa edizione 2017 Del secondo special Mini Abbiamo dopo il 127 Nel numero 128 In grieco insieme a Marcella Marcella Gallo Allora Francesco ieri hai fatto le prove Hai testato la pista Sì Speriamo dai In bocca al lupo Pronti a partire Anche c'è il greco Gallo Mentre arriva al numero 129 No ieri no ma ci divertiremo sicuramente oggi Anche vediamo quando ci divertiremo sicuramente Poi tutto il resto E se dovesse piovere questo pomeriggio? Non mi... Non c'ho paura In bocca al lupo Via Si parte Marconlini balli Anche per l'origenza questa A Herbert A Toruncino Va da corse Questa Mini Cooper Non dobbiamo dimostrare niente Nessuno Siamo venuti per divertirci E ci divertiremo E' sempre così Lo dicono tutti Poi quando sono dentro Vado sempre al massimo Numero 131 Attenzione perché la pista adesso Ha una tenuta Rispetto a quella di ieri Sversa Assolutamente sì Sono pronta a posta Qui tocca al lupo allora Bene Sperone Franchin Fabio Franchin lo ricordo Fabio Beltrame e Giulia Castellato Se viene poi qualcosa di bello Ci vediamo stasera allora Il bocca al lupo Beltrame e Casellato Pronti a partire Eccoli arrivare sotto la Insieme A Matteo Cairoli Per la tua esperienza E per prepararmi Sperati più all'anno prossimo Che abbiamo scelto di fare Un bel programma Grazie Stefano Tinolli Insieme a Gianluca Minervino Allora Come andò? Bene Bene Ah quindi Ci hanno occhi chiusi entri In bocca al lupo allora Allora Ve lo ricordo Rota Cervasoni La prima volta in tutto La prima volta alla me La prima volta Con quella La mediatrice Marco Frigerio E Luca Fumagabri Come non c'è l'applauso Stavolta 37 Siamo alle battute finali Marcello Daveri E Gianluca Lopresti Vieni giù Allora Marcello Vi ritrovate Oggi ci divertiamo E ci parliamo Sì naturalmente La conosciamo Allora Buona abitudine In bocca al lupo Perché sia davvero Una bella domenica Che per voi Allora Numero 100 Rincotto Che è la prima volta a mondo La prima volta a Monza Come mai hai scelto questa manifestazione Anche La sua perché È la fine di una stagione Come è andata Anche per loro Novità assoluta Anche e soprattutto Monza Numero 140 Walter Moscardi E David Spinna Cosa ti aspetti? Vai vai Allora in fondo la cosa più importante È il livello Lo scopo un po' Cristian Buccino E Daniela Stag Stag Quest'anno sono a 20 19 Grande esperienza Non ti serve provare prima Quando ti ci butti dentro Ormai Non c'è tutti gli automotivi Sì sì Ce l'ho da tre anni Non ho fatto La mia prossima gara Lo ricordo Cristian Buccino Io mi riferisco anche alla scelta Della macchina La DR La macchina è nata da un'idea Come è andata? Bene bene Allora in bocca al lupo Sarà una grande giornata anche per voi Limoncelli Massaro Pronti alla via Con questa DR L'unica DR che vediamo in vista Mentre qui È pronto a partire anche con il numero 201 Rossano Gritti e Giovanni Frigerio Anche questa è una macchina storica straordinaria Sì è una macchina che dà ancora delle emozioni importanti Speriamo di formare la gara È un po' più storica per confrontarsi magari un po' meglio Però siamo qui per dire 10 Prima volta a Monzino? No Ho fatto con un'altra Un'altra È un'altra 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 La conosce molto bene Riesceva a farla Andare ancora oggi come negli anni 80 Fantastico Complimenti Bocca al lupo Pronti Gritti e Frigerio Anche loro A partire con Questa stupenda Reno 5 Turbo L'entra l'ultima vettura A prendere il via È proprio qui la 202 È una splendida Porsche 911 SC Della E6 Rally Team Mario Ferrari e Mauro Boeri Anche voi avete provato ieri? Sì Sì abbiamo fatto Fantastico Allora siete qui veramente per riprendere in mano una passione e portarla in oltreguardo Sicuramente sì Sicuramente sì Quante condizioni ti senti? Quante condizioni ti senti? No 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 È la prima gara che mi metto da Boccappiani Prima gara che mi metto il sedere la macchina più nel solo per riprendere 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 l'archivio C'è la cosa più importante Ti sosterremo la mozza L'abbiamo fatto i 7 Avevamo una grande storia Quindi Fantastico Complimenti Bocca al lupo e divertitevi Eccoli qua Pronti a partire anche loro Con loro Si chiude la partenza Di questa seconda Special Rally Circuit Ora andiamo in postazione E ci vediamo i primi tempi della prima prova speciale C'è la prima volta che mi metto da Boccappi C'è la prima volta che mi metto nel verso Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.